Una situazione già critica in assenza di controlli della Polizia Municipale di Salerno nelle ore notturne. La nuova ordinanza sulle emissioni sonore emanata dal Comune di Salerno che dispone nuovi orari per la diffusione della musica nel chiuso dei locali non tiene conto dell'impatto acustico e favorisce chi si muoveva e si muove nell'illegalità perché in assenza di verifiche dei vigili urbani nel cuore della notte non si tiene conto dei disagi che sono costritti a vivere i residenti. E questa in sintesi una prima valutazione che arriva dai cittadini del centro di Salerno a quasi due settimane dalle modifiche attuate dalla nuova ordinanza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Ben venga regolamentare le attività musicali di intrattenimento all'interno dei locali ma quando le emissioni travalicano gli ingressi, la musica è ad alto volume, i rumori e gli schiamazzi avvengono in orari che dovrebbero invece essere notoriamente destinati al riposo delle persone viene messa in discussione in assenza di organi di controllo deputati al rispetto dell'ordinanza la norma che tutela la quiete pubblica facendo prefigurare reati. Diciamo già la situazione era un po' critica prima, con questa ordinanza sindacale io ho visto un po' di arroganza in più da parte di alcuni gestori perché è ovvio che la categoria è composta da persone per bene, rispettose e da chi invece ne approfitta moltissimo. Questa è un'ordinanza sindacale che secondo me innanzitutto è stata molto antidemocratica in quanto non ha coinvolto anche i residenti in una discussione finalizzata all'approntamento della stessa. Seconda cosa non prevede controlli, obbligatorietà dei controlli, quindi si dà in mano al gestore scorretto, non parliamo del gestore scorretto, la possibilità di fare quello che vuole lui, come vuole lui e quanto vale lui. Quindi non si parla di controlli, si parla semplicemente di una perizia fonometrica fatta all'interno del locale, questo ovviamente senza tenere minimamente conto dell'impatto acustico che si ha sui locali afferenti, quindi appartamenti o altre strutture. Perciò da questo punto di vista è sicuramente mancante e sicuramente favorirà il discorso di chi è scorretto e vuol vivere nelle legalità. Faccio un esempio, noi teniamo anche per esempio una struttura tipo il Forte La Carnale che ovviamente fa musica, questa qui sarà autorizzata in base alla nuova ordinanza sindacale a fare musica fino alle 4 di mattina. Allora è giusto che la faccia, è altrettanto giusto che chi vive lì vicino possa vivere tranquillamente e quindi è un obbligo morale secondo me per l'amministrazione di procedere a mettere su quei controlli necessari a far sì che le due situazioni né di regressione ma neanche di Baldoria come si vuole vadano avanti. Molti residenti infatti si chiedono ma questa ordinanza non va in contrasto rispetto alla legge che tutela la quiete pubblica? In questo caso si parlerebbe di disturbo di quiete pubblica. Le persone hanno la libertà di poter dormire da mezzanotte in poi come poi sostiene la legge? Allora l'ordinanza sindacale per lei non può andare in deroga a quella che è la legge quadro nazionale sull'inquinamento acustico. Pertanto per questa cosa è demandata le forze dell'ordine che con molta superficialità, molte volte con fastidio, fanno i controlli se li fanno perché disturba la quiete pubblica. Sono anche i 10 avventori che fino alle 3 alle 4 del mattino ubriachi, gridano e ballano e fanno quello che vogliono in mezzo alla strada. Qui stiamo sempre a un discorso di cultura anche delle forze dell'ordine perché il fatto del cittadino che purtroppo in casa sua non può vivere viene sottovalutato, a volte anche schernito perché molte volte quando si telefona si hanno anche risposte diciamo abbastanza antipatiche e irrispettose. Quindi io penso che è un fatto sicuramente di cultura da parte delle forze dell'ordine che manca per questo fenomeno.